Oggi è una giornata di dicembre. Guardate, c'è chi fa il bagno. Laggiù vedete, vedete più o meno, la Sierra Nevada Granada innevata e qua è come se fosse più o meno estate. Qui ci troviamo alla Carriuela, cioè un barrio, quartiere dei pescatori di Torre Molinos. E là andiamo verso Puerto Marina. Quindi Malaga è laggiù, più l'alto da verso Granada, Malaga, Torre Molinos, piano piano si va Benalmadena, dopo Benalmadena abbiamo Fuengirola, e giù giù, Marbella, Stretto di Svilterra, Tarifa e via via. Ciao italiani a Malaga.it Grazie. Grazie.